Uomini e donne, anticipazioni 6 aprile, Roberta si con Nicole Decaus in studio. L'appuntamento con uomini e donne prosegue nella giornata di giovedì 6 aprile 2023 con la messa in onda di una nuova puntata su Canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nicole. La quale si troverà ancora una volta al centro delle polemiche in studio. Questa volta sarà la dama Roberta a puntare il dito contro la nuova tronista di questa edizione e tra le due si accenderà uno scontro che genererà il caos. Le anticipazioni su Uomini e donne del 6 aprile rivelano che Nicole continuerà a essere sotto accusa. La tronista si è recentemente trovata a fare i conti con le accuse di Gianni Sperti. Che l'ha incolpata di parlare in segreto con i suoi corteggiatori. Durante la puntata che andrà in onda giovedì pomeriggio su Canale 5, Nicole farà i conti con i pesanti attacchi da parte di Roberta. La dama del trono over si scaglierà contro la giovane tronista, soprattutto per i suoi modi di fare e il suo approcciarsi nei confronti dei ragazzi che stanno partecipando alla trasmissione per conoscerla e sperare così di intraprendere una frequentazione che possa essere stabile e duratura. Le parole di Roberta nei confronti di Nicole saranno particolarmente dure, le anticipazioni su Uomini e donne del 6 aprile rivelano che le due protagoniste del talk show Mediaset si ritroveranno ai ferri corti e a quel punto nascerà un acceso confronto-scontro in studio. Il clima sarà particolarmente teso, Roberta perderà le staffe e punterà il dito anche contro i pretendenti stessi dell'atronista. Tacciandoli di essere inconcludenti e privi di carattere. A quel punto si scatenerà il caos in studio e clima non sarà affatto dei migliori, come si evolverà la situazione tra le due protagoniste del talk show? In attesa di scoprirlo le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne, prevista il 6 aprile su Canale 5. Rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Luca D'Affrè. Il tronista si ritroverà al centro dell'attenzione, complici le nuove esterne che lo vedranno protagonista insieme alle pretendenti che lo stanno conoscendo. Il comportamento di Luca finirà per scatenare la reazione contrariata di Chiara. Chi a un certo punto andrà su tutte le furie e deciderà di abbandonare lo studio della trasmissione di Canale 5. Chi a un certo punto andrà conoscendo. Chi a un certo punto andrà conoscendo.